magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale oggi vi porto sei nuovi arrivi da andare a comprare all'asta di riparazione ma anche se dovete fare l'asta quindi mi raccomando di sostenermi con un grandissimo like le iscrizioni al canale che sono fondamentali per poter venire nelle live a farmi le vostre domande perché le live sono solamente per gli iscritti al canale ed è gratis iscriversi al canale oggi saremo in live intorno alle ore 18 invita a seguirmi su instagram per essere sicurissimi sull'orario perché è sempre un po incerto la mezz'oretta prima o dopo quindi venite a seguirmi per chi volesse sostenere questo canale ma anche avere tanti vantaggi ci sono gli abbonamenti qui su youtube si parte da 0 99 ma se volete le mie fasce dal livello promessa in poi potete ottenerle mentre se avete amazon prime potete ottenerle gratis se collegate amazon prime a twitch e quindi potete fare la sub gratuita al canale ieri ragazzi abbiamo fatto una grandissima live qui sul mio canale con i fantastici 4 con me c'erano carmi special marco il profeta e lorenzo cantarini vi lascio la live qui sopra se volete andare a recuperarla perché abbiamo toccato tantissimi tantissimi temi quindi vi invito a andare a recuperarla e vi ricordo ragazzi che i sei nomi che ora vi faccio vedere sono presi da fanta lab link in descrizione la registrazione è gratuita e lì potete trovare le mie fasce sia se siete abbonati al canale potete andare a scaricarle in formato excel sia se volete fare il premium su fanta lab costa solamente 10 euro da fare una volta e andate bene per tutto l'anno quindi il prossimo rinnovo sarebbe a settembre 2024 ma andiamo andiamo a vedere i nomi allora partiamo con il primo Pavard giocatore che conosciamo tutti importantissimo arrivato all'inter io nelle fasce l'ho messo semi top al 4,4 per cento da lui mi aspetto tante buone prestazioni e magari qualche golletto ma non tanti ma non tanti perché l'ho messo così alto perché sicuramente se abbiamo magari un modificatore della difesa sarà sicuramente uno di quei giocatori più richiesti all'asta la cosa che mi dispiace un po dell'arrivo di Pavard che magari Darmian potrebbe perdere un po di appeal fantacalcistico però vi dico anche su Darmian un credito ragazzi mettiamo magari soprattutto se prendiamo Pavard però anche anche senza un credito su Darmian io lo metterei perché un giocatore che può ricoprire tanti ruoli mentre Pavard secondo me il suo ruolo è quello braccetto di destra quindi quello sarà il suo ruolo e mi aspetto tanti tanti veramente buoni quindi per chi ha un mod ideale magari senza mod potreste pagarlo decisamente meno perché di bonus onestamente credo ne possa portare veramente pochi passiamo al secondo nome questo mi ha stregato mi ha stregato perché appena arrivato al Bologna Christiansen ha fatto benissimo vedendo la sua prestazione questa giornata sono andato a vedermi i suoi i suoi highlights giocatore che devo dire tanta tanta roba però un'altra cosa che voglio andare a a precisare cioè il Bologna ha preso un direttore sportivo guardate ora ora il calciomercato dell'Atalanta e guardate quello del Bologna capite chi era che era Sartori guardate che giocatore ha preso ora dici recosta ma è solo una partita assolutamente però si è presentato da pochissimo e subito lanciato in campo già questo vi fa capire che Tiago Motta apprezza il giocatore probabilmente giocherà lui ha un piede veramente importante sia per i cross ma ho visto che calcia anche molto molto bene in porta e io l'ho messo al 2% forse anche basso perché ovviamente come li ho visti io visto io la partita l'avranno vista anche tanti fan allenatori la cosa interessante è che lui possa portare sia bonus in termini di gol sia bonus in termini di assist il Bologna è una squadra che produce un'ottima mole di gioco e quindi un giocatore che così offensivo può essere tanta tanta roba quindi questo è un giocatore da andare a prendere assolutamente nelle aste del fantacalcio passiamo ai centrocampisti il primo nome è quello di Lindstrom che è arrivato da poco diciamo contro la Lazio non è riuscito a mettersi in mostra però per chi ancora deve fare l'asta o meglio ancora per chi deve fare un'asta di riparazione tanto meglio giocatore che qui io dico di andare a prendere e vi spiego anche perché non so quanti gol possa portarci e quanti assist possa portarci però sicuramente se prendi Lindstrom ti prendi un potenziale crack al fanta perché è uno che può portarci tantissimi gol e tantissimi assist e poi bisognerà vedere tante cose perché nel Napoli c'è tanta abbondanza perché nel Napoli tolti Osimen e Kvara poi ci sono Raspadori c'è Lindstrom c'è Politano c'è Elmas lì davanti sono veramente sono veramente tanti per per qualche posto per qualche posto di squadra però lui dà anche una possibilità di cambiare il modulo al Nap perché con lui si può passare anche al 4-2-3-1 possono fare può giocare al posto di Politano nel 4-2-3 è un giocatore che lo vedo più attaccante rispetto a Politano perché è uno che preferisce andare dentro piuttosto che venire dentro al campo come fa Politano e cucire un po' il gioco magari Lindstrom è più uno che va in verticale che va ad attaccare la porta però è un giocatore che se lo prendi ha un budget qua volta altre leghe cioè il budget medio al quale sta andando Lindstrom è il 4,2% a quel budget là è un affare assolutamente io ci ho messo il 5,5% il 5,6% ripeto perché ha un potenziale importante a quel prezzo là lo prendo sempre lo metto in squadra e poi vediamo cosa esce poi ci ho messo Guendonzi ma vi ricordo i like ragazzi mi raccomando i like sostenetemi con queste cose gratuite e vi aspetto oggi alle ore 18 per la live sia per valutare le vostre rose e i vostri scambi per valutare i reparti quindi vi aspetto in live allora parliamo di Guendonzi lui si è messo in mostra già la prima perché aveva fatto un bel gol anche se poi è stato annullato su di lui proprio la mattina prima della partita quindi sabato mattina era andato a guardarmi dei video e la cosa che un po' mi ha stupito anche lui un po' alla Carson ha un modo un po' strano di calciare vedete tipo che porta un po' il busto avanti per calciare ha una movenza di corpo particolare però ha fatto anche lui diversi diversi gol è uno molto fisico rispetto magari a un Kamada che è più leggerino è uno con tanta corsa è uno che secondo me alla Lazio può fare bene io ci ho messo il 3,6% non lo so chi giocherà tra Kamada e Guendonzi come titolare però ora che arriva anche la Champions magari uno gioca in Europa uno gioca nel campionato si alterneranno e questo può essere un giocatore molto molto interessante aveva fatto anche l'assist per Zaccagni che poi c'è stato il fuorigioco è uno ragazzi che può fare può fare tanto tanto bene al Fanta quindi occhio occhio a lasciarlo magari allo 0,8% che porta in quello altre leghe davanti il primo è Christovic allora su di lui mi sono già espresso ormai quasi due settimane fa appena arrivato ho visto dei video mi ha stregato e infatti ve l'avevo consigliato nel video e poi vi ho detto però ve ne parlo nella live e ne abbiamo discusso in live e vi ho detto ragazzi questo è un giocatore che da scommessa è un giocatore interessantissimo già ora vedete quell'altre leghe il prezzo stando all'1% sono convinto che se fate l'asta domani non lo pagherete nell'1 nel 2 nel 3 ma almeno il 4-5% di budget devo dire che lui magari ci potrà portare quei 5 perché è una punta centrale che magari se non segna non lo si vede tantissimo in campo però è uno che di testa è veramente forte dentro l'aria fa sentire la sua presenza è il classico bomber d'aria di rigore è molto giovane ed è uno che nel Lecce lo veda la grande punto primo non ha concorrenza la concorrenza di Christovic chi sarebbe? piccoli potrebbe giocare strefezza per un attacco più leggero però già lui dopo due partite se l'è preso si è preso il posto lì quindi sicuramente è un giocatore che bisogna acquistare nelle aste ovvio non bisogna strapagarlo però fino al massimo del 6% io lo prendo e non l'ho neanche ritoccato perché questa fase è stata fatta se non sbaglio appena è arrivato o l'avevo messa al 5% e poi l'ho spostata al 6% era già una fascia alta rispetto all'1% che vediamo là che sta andando nelle altre leghe quindi assolutamente il giocatore è da acquistare magari anche come quarto slot che poi vi può fare tranquillamente un terzo slot e poi un altro giocatore mentre vi invito a lasciare gli ultimi like un altro giocatore che a me piace tantissimo che è Carson del Bologna il Bologna vi ripeto ha fatto un calciomercato intelligente è andato a prendere un giocatore fenomenale per me anche di lui ve ne avevo già parlato in una live in una live in cui vi ho detto occhio ragazzi che perché un posto lì è suo vi avevo parlato benissimo anche di Indoe però a sinistra il posto è di Carson ieri ieri questa giornata quindi sabato il Bologna ha giocato senza Orsolini è partito fuori e hanno giocato Carson a sinistra e Indoe a destra bisognerà vedere chi magari riuscirà a prendersi il posto titolare sul fatto di Orsolini vi dico la mia secondo me Orsolini ha pagato un po' il fatto del rinnovo perché vi ricordate che c'erano tante voci di mercato e quindi ora dovrà un minimo contendersi il posto però per me se voi mi dite chi sono i due esterni d'attacco io metto Orsolini a destra e Carson a sinistra su Carson l'abbiamo visto già contro contro il Cagliari boom pronti partenza via 4 minuti da casa sua tira un missile spacca la traversa è un giocatore molto estroso e l'altra cosa molto interessante è che Tiago Motta al rigore sbagliato di Orsolini ha detto Orsolini è il nostro primo rigorista e Carson è il secondo purtroppo l'ha detto però io l'avevo capito perché se voi guardate le immagini della partita si vede proprio che Carson va per prendersi il rigore e c'è Orsolini che gli dice lo tiro io però era lui che stava andando a prendersi il pallone quindi sicuramente ci ha sfavorito un po' questa cosa perché magari se non l'avesse detto Tiago Motta io ve l'avrei detto che l'avevo notata questa cosa di Carson è un giocatore che salta l'uomo con tanta facilità metterà dei palloni molto interessanti diciamo che avrei preferito nell'attacco del Bologna magari un Arnautovic forte di testa perché per come crossa Carson ma anche il Christiansen che abbiamo visto potevano portare una montagna di assist però Zirze mi è piaciuto tanto questa settimana quindi può essere che anche lui possa fare possa fare bene vi ripeto un altro giocatore io l'ho messo anche alto qui l'ho messo al 7% perché mi piace veramente tanto poi magari non so se nelle vostre leghe va all'1% come dice qui Fantalab che è il prezzo medio al quale sta andando Carson però è un giocatore veramente importantissimo che io vi consiglio di acquistare al Fanta ritorniamo ragazzi mi raccomando like iscrizioni al canale così potete venire in live oggi alle ore 18 per farmi le vostre domande sia se volete chiedermi su uno scambio sia se volete farmi domande sull'asta di riparazione o su una nuova asta che dovete fare potete venire farmi tutte le domande che volete vi ricordo di registrarvi a Fantalab con il mio link è gratis se poi deciderete di fare la sub vi costa 10 euro per tutto l'anno se siete abbonati al canale qui o su Twitch potete andare a scaricare le fasce aggiornate formato Excel quanto andate su Creators Recosta scendete giù e trovate il file Excel da scaricare veramente semplicissimo ci vediamo questo pomeriggio ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti